Andai a lavorare. Da giovane andai a lavorare negli Stati Uniti e sono tornato vecchio nel mio paese, da cui mi mosse una decisione che aspettai a lungo. All'inizio schiusi, con mano tremante, la vastità grandiosa del paese che mi ospitava, che poi dominai con la fierezza del mio lavoro. Però un giorno mi fermò una solenne nostalgia e mi sentì di nuovo piccolo e solo, come quando arrivai negli States. All'improvviso vogli tornare per fondermi nel crogiuolo della vita in Italia. Adesso mi chiedo, a che cosa è valsa la mia vita all'estero? Commento. È valsa per tutto quello per cui prendesti la decisione di lavorare all'estero. Tutto ciò che si vive è massimamente utile, perché è selezionato dal grado di evoluzione di chi lo vive.